E dopo quattro tentativi, finalmente la quinta è quella giusta, finalmente sono riuscito a vedere la Roma vittoriosa in questo campionato, dopo ben quattro partite in cui ho visto soltanto pareggi, con Fiorentina, Andate e Ritorno, con Inter e con il Chievo, e finalmente sono riuscito a vedere una bella vittoria, come vedete le avitudini non cambiano mai, parcheggio anche dopo il lavoro e parcheggio anche a Roma, a parte gli scherzi. Era una vittoria di importanza vitale, perché tutti i nostri avversari avevano vinto, perché dobbiamo ancora poter lottare per un posto in Europa, ed era una vittoria complicata soprattutto perché giocavamo con la squadra più forte del campionato. E tutti quanti adesso mi direte, eh sì ma ve l'hanno regalata, eh ma le motivazioni, sulle motivazioni nulla da dire, perché comunque è normale, una squadra che non ha più nessun obiettivo, che è già prima, straprima, è normale che difficilmente ti correrà per tutta la partita a 2000, perché non ne ha il bisogno diciamo, perché possono comunque giocarsela. Però contava molto di più per noi che per loro. Però per quelli che dicono semplicemente che ce l'hanno regalata, andate a vedervi gli highlights, e andate a vedervi quante cazzo di parata ha fatto Mirante nel primo tempo, prima di dire che effettivamente ce l'hanno regalata. Perché è vero, nel secondo tempo sono calati per forza di cose, ma nel primo tempo hanno avuto tantissime occasioni, e se non fosse stato per Mirante non so se saremmo riusciti a vincere questa partita. Quindi voglio fare prima di tutto dei complimenti a Mirante che ci ha salvato, e probabilmente, anzi senza probabilmente, se ci fosse stato lui dall'inizio di questo campionato, non dico che saremmo arrivati secondi e avremmo lottato con la Juve, per carità di Dio. Ma sicuramente saremmo stati molto più avanti in classifica, e non ci dovremmo soffrire fino all'ultimo un post in Champions che adesso è solo nelle mani dei nostri avversari. Oltre a Mirante volevo citare Florenzi, perché sono molto molto contento che sia riuscito a trovare il gol, per due motivi principali. Il primo perché con questo gol, soprattutto contro un avversario ostico come la Juve, può ricucire il rapporto con la tifoseria e soprattutto riacquisire fiducia in se stesso. E il secondo motivo perché è riuscito a rispondere sul campo allo sbeffeggiamento che Cristiano Ronaldo gli aveva fatto pochi minuti prima, in cui lo accusava diciamo di essere un tappo, e venti minuti dopo è riuscito lo stesso tappo a segnare il gol del vantaggio. Dopo alla fine, al novantesimo, è arrivato il gol di Edin Dzeko, che fino a quel momento non aveva fatto una gran partita, aveva sbagliato molti passaggi e non era stato particolarmente preciso, è riuscito a trovare la via del gol e nonostante appunto una partita sottotono è riuscito a fare un gol e un assist, quindi sotto questo punto di vista ci possiamo lamentare ben poco. È stata una partita diciamo a fasi alterne, nel senso che in alcune fasi della partita mi sono abbastanza annoiato, mentre invece in alcuni momenti sembrava veramente che potessero segnare entrambe le squadre da un momento all'altro, entrambe le squadre, scusate la ripetizione, hanno avuto tante occasioni secondo me per metterla dentro, e la Juve ha peccato di imprecisione perché nel secondo tempo sono calati, ma nel primo tempo non puoi mangiarti quel gol, cioè io al gol mangiato di quadrato veramente sono rimasto pietrificato perché ho detto porca puttana, cioè che cazzo si è mangiato, ma poi per carità c'è anche una bella parata di Mirante, però in quel momento la prima cosa che ho pensato è ma come ha fatto a mangiarsi quel gol, comunque ovviamente meglio per noi perché in questa partita si può dire che siamo stati più cinici, siamo migliorati con il passare dei minuti, abbiamo appunto trovato il gol con le poche occasioni effettivamente concrete che ci siamo creati, e così bisogna fare, cioè non bisogna sempre creare mille occasioni per segnare un gol, bisogna cercare di crearsi le giuste occasioni e cercare di metterla dentro, perché contro avversari di questo genere devi cercare di segnare e soprattutto di non subire gol ad ogni minima occasione avversaria. Penso che si possa dire poco altro, poi sicuramente domani farò un video del giorno dopo in cui dirò pagelle e tutto il resto, però a ora come ora non posso dirvi di più perché comunque vedendola dallo stadio sicuramente qualche cosa mi è sfuggita, parlo ovviamente di episodi arbitrali, di effettive occasioni, mi pare che c'è stato un palo di pellegrini, un palo loro su fuorigioco, un gol allunato a Ronaldo che credo a questo punto fosse veramente fuorigioco perché la VAR su questi episodi non può sbagliare, quindi in generale sono molto molto contento per questa vittoria, finalmente ho risentito grazie a Roma allo stadio, non ne potevo più, veramente non ne potevo più, e adesso dobbiamo cercare di lottare fino alla fine per provare quantomeno ad ottenere un obiettivo che all'inizio era il minimo sindacale, adesso è diventato veramente quasi un miracolo, però questa vittoria ci dà comunque il compito di provarci fino alla fine. Detto questo ragazzi allora fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di Roma 2, Juve 0, ci vediamo domani per il video più concreto diciamo in cui dirò le cose che mi sono sfuggite questa sera, un saluto e sempre comunque forza Roma, ciao ragazzi, anzi, ciao ragazzi!